Buongiorno e benvenuti alla Sennia Stampa, oggi di 21 novembre, martedì 21 novembre, questa sera non ci sarà Matrix, per le prossime tre settimane andremo in onda soltanto il mercoledì, ma ci sarà sempre ovviamente il Matrix su Radio 105, quindi un appuntamento c'è comunque con informazione diversa rispetto a quella a cui siete abituati sulle reti convenzionali. E rispetto alle reti convenzionali, informazione convenzionale, oggi gli occhi nostri sui giornali sono un po' diversi rispetto a quello che è la sconfitta di Milano riguardo al palazzone dell'Ema. A Milano avevamo già individuato un palazzo dove poterlo piazzare, che era il palazzo Pirelli, l'ex palazzo della regione Lombardia fatto da Gioponti, tutto pronto, si sosteneva per l'Ema. A parte una parentesi che apro e chiudo, non andava bene per i funzionari della regione Lazio e va bene per i funzionari dell'Ema che stavano a Londra. Mi dovete spiegare dove una delle due è sbagliata, forse andava bene per i funzionari della regione ma non andava bene per quelli, o andava bene per quelli perché sono meno attenti alle condizioni di lavoro dei dipendenti della regione Lazio, o erano troppi i dipendenti della regione Lazio, chi se ne frega. La cosa sostanziale è che c'è una specie di pianto collettivo perché l'Italia non si aggiudica l'autority per il farmaco. Il pianto è condivisibile perché la Lombardia, non Milano, la Lombardia è uno dei distretti del farmaco più importanti di Europa. E quindi, non so, mal tassista ieri sera per andare a un convegno ha detto come finirà l'Ema, come se è una specie di partita di calcio. Alla prima siamo andati 25 a 13, Bratislava è fuori, siamo diventati dei grandi esperti in geopolitica, esattamente con lo stesso criterio con cui siamo dei grandi allenatori della nazionale. E su questo è la premessa. Abbiamo perso al terzo scrutinio dopo che i primi due li avevamo vinti rispetto ai concorrenti, beh, però vi voglio fare anche presente che su 27 paesi facenti parte dell'Unione Europea, 16 paesi erano candidati, anche perché la struttura di questa burocrazia, questo è un altro dei ragionamenti che si dovrebbe fare, questa burocrazia porta al lavoro. Ormai il lavoro non è portato dalle industrie, ma è portato dalle burocrazie, vale 2 miliardi di euro i funzionali dell'Ema che sono pagati da noi, perché poi alla fine di tutto quanto noi abbiamo fatto una battaglia per avere una Camera, non un Parlamento, una Camera in Italia, posto che una Camera non si nega a nessuno, a Roma ce la fa, è un'organizzazione dell'ONU, insomma, intanto prima considerazione che nessuno fa è che noi volevamo più burocrati perché i burocrati portano soldi, portano ristoranti, portano scuoli per i figli, portano stipendi pagati dai contribuenti europei, quindi volevamo avere questi burocrati perché ci avrebbero portato soldi. Abbiamo perso, abbiamo perso perché al terzo turno, siccome eravamo arrivati alla pari con Amsterdam, si è gettata una monetina e si è scelto tra Amsterdam e l'Italia, tra Amsterdam e Milano, quale delle due fosse la più fortunata e ha vinto ovviamente Amsterdam. Sempre con la monetina è stata attribuita ieri un'altra grande authority, molto più importante dell'Ema, cioè del farmaco, e quella è l'authority finanziaria che si chiama EBA, peraltro era diretta da un italiano che invece di andare a Francoforte, come tutti si aspettavano, è andata a Parigi. A favore dell'Italia non avrebbe votato la Spagna, questo è un altro degli ritroscena di oggi, ma invece Racoy avrebbe preferito Amsterdam rispetto a Milano, invece la Francia avrebbe votato per noi, pare anche la Svezia avrebbe votato per noi. Ma il punto vero, dice Cristian Tavano, può essere una monetina a decidere, questo è il punto fondamentale. Oggi tutti i giornali dicono che l'Italia ha perso a dadi, l'Europa che decide a dadi. In realtà siamo dei cialtroni, siamo dei cialtroni. Sapete perché siamo dei cialtroni? Perché porca puttana, non dieci anni fa, non il trattato di Maastricht, ma i rappresentanti italiani al Consiglio europeo, cioè al massimo vertice decisore europeo, a giugno hanno deciso quali erano i criteri con i quali attribuire EBA ed EMA, cioè i due organismi che dovranno uscire dalla Brexit. E sapete che hanno deciso? Che se alle prime due votazioni non c'era la maggioranza assoluta, si doveva andare al sorteggio. Quindi questa scelta non l'ha decisa Babbo Natale. I giornalisti, se si fossero informati, me compreso, questa cosa l'avrebbero potuta criticare tre mesi fa, a giugno, quando gli europei hanno deciso di fare questa scelta. Nel 1968 l'Italia vinse gli europei con la monetina, caro Calderoli. Monetina, boom, monetina, abbiamo vinto i campionati di calcio europei. E poi non è stato fatto più così, perché la monetina è stata sostituita probabilmente dai rigori. Allora vi chiedo, vi chiedo, cari amici che mi ascoltate sulla zuppa di porro, quando oggi vedete i politici che dicono, eh, il sorteggio, la monetina, eccetera, ma dove erano, scusatemi, tre mesi fa? I giornalisti che oggi si indignano, tre mesi fa, a giugno, quando fu stabilito il regolamento, dove erano? Lo sapevamo che era con la monetina, era una cosa che era scritta, ci possiamo lamentare di tutto, ma la monetina, la monetina, già la conoscevamo, era già lì, già si sapeva, era già una scelta europea. Certo, non era toccata all'Italia, perché si era detto che valeva per tutti, quando tocca l'Italia ci accorgiamo che la monetina non vale. Seconda considerazione, e oggi Moavero, che si dovrebbe occupare, considerare il Presidente del Consiglio proprio per gli affari europei, dice, non abbiamo vinto ma non siamo stati sconfitti. Minchiata? Si vince, qua non c'è il numero due, si vince e basta! E come le elezioni a Ostia, come le elezioni in Sicilia, caro Moavero, soltanto lei vince sempre quando è sconfitto, e nel senso che riesce a fare il consigliere di Letta, di Monti, di Gentiloni e forse domani di Berlusconi. Sono i politici e i burocrati come lei, vincono anche quando sono sconfitti. La vita è diversa, in questo caso 1,8 miliardi di indotto non arrivano, caro Moavero, in Italia. Non sono venuti, non arriveranno mai, siamo stati fottuti, chiaro? Punto! Non c'è nulla da fare, quindi Moavero, il problema vero è che lei, Gozzi, mi spiace che è una brava persona, il Sottosegretario del Presidente del Consiglio, Gentiloni, il Ministro degli Esteri, Capirai, Alfano, hanno contribuito alla sconfitta dell'Italia. Perché oggi, scrive bene Giannino della Frattina nel fondo del giornale, guardate che noi abbiamo dato per scontato la vittoria dell'Expo, che tutti quanti noi abbiamo, che in gran parte hanno contestato e poi invece è stato il motore del successo di Milano. Ma l'Expo, la signora Moratti si è fatta un mazzo così per vincerlo, ha invitato la Scala Re, è andata in Africa, ha preso il suo eretto privato per andare in giro per il mondo per cercare di portare a casa il risultato. La Moratti si è fatta un mazzo così per vincere. Questi qua stavano a casa, stavano a pensare a Moavero, ma voi vedete la determinazione di una donna come la Moratti con la determinazione di un burocrate come Moavero? Tra i due, secondo voi, a chi fidereste la vittoria di una grande competizione internazionale? A una donna come la Moratti o a uno come Moavero? Io la fiderei alla Moratti, tant'è che l'Expo ce lo siamo portati, in tutto il mondo hanno votato Milano, abbiamo rifatto nascere questa città, mentre invece riguardo all'EMA ce la siamo persa. La Merkel, l'unica cosa che è l'altro grande tema di giornata è che la Merkel non ha una maggioranza, lo sapevamo dal 24 settembre, ma che non vuole fare l'accordo con i liberali. Bellissimo come sempre il pezzo di Taino oggi sul Corriere della Sera, che dice che sono cinque i motivi per i quali è stata sconfitta la Merkel, perché questa è la parola giusta. Intanto perché non aveva un piano sui rifugiati, ha detto venite ma non sapeva come gestirli. Secondo il fallimento della politica energetica, la terza è la lobby dell'auto, dieselgate e compagnia cantante, la quarta è quanto ha sbagliato sulla Brexit e la quinta ha detto sì alla rielezione, alla candidatura, all'obamismo, quando Obama ha perso con Trump. Cinque elementi su cui Taino ci fa ragionare. Poi dopo aprite il fatto e eloggete Tobias Piller, un giornalista tedesco ospitato dall'Italia, gentilmente ci fa sempre delle lezioncine su come dovrebbe essere Tobias Piller e ci dice, ma vedete da noi in Germania non si fanno le coalizioni solo per conquistare le poltrone, come fateci, quindi la Germania oggi va alle elezioni non perché è superficialmente una situazione all'italiana, ma perché noi le poltrone non le spartiamo. Noi tedeschi non si spartiscono le poltrone, se visto in tutte le trattative europee, quante poltrone cercano di spartire dove conta, non a Berlino, ma a Bruxelles e a Francoforte. E poi dice Piller, sempre con quest'area snobbistica del giornalista tedesco, del tedesco che pensa di fare il giornalista indipendente, dice, ma sapete, in Italia si fanno molti annunci in campagna elettorale, mentre in Germania no. Sì, è vero, in Italia si fanno molti aggiunti e non sarà qui a difendere la cialtronaggine dei nostri politici, ma mi sembra che riguardo agli annunci, come ci spiega bene oggi Taino, ma anche Giuliano Ferrara sul foglio, scusatemi, gli annunci riguardo all'immigrazione e riguardo alla gestione di quel piano immigrazione siriana, non mi sembra che sia andata così bene, caro Tobia Spiller che ci fa sempre le lezioncine. Diba, terza notizia del giornale, Diba Battista, non mi piace essere chiamato Diba, mi ha corretto in radio, Diba non vuole più fare politica, chapeau perché uno che riesce a staccarsi dal mestiere, che comunque in 5-6 anni ha fatto, è una scelta radicale e difficile per ognuno di noi, che sia politica, che sia giornalismo, che sia agricoltura, se lo fai volontariamente bisogna dare il rispetto per chi vuole cambiare vita. Certo, dire che non voglio fare politica perché voglio fare il papà mi fa un po' sorridere, perché noi tutti che siamo papà, devo dire la verità, se dovessimo smettere di fare quello che facciamo perché siamo padri, sarebbe bellissimo, ma purtroppo molti di noi non se lo possono permettere, ma anche forse Diba, diciamone un'altra, ma che vuoi fare il papà è una cosa molto romantica, molto da alimentare questo mito di Battista, ma se uno lavora e la politica è un lavoro, purtroppo deve convivere col fatto di essere padre. Penso, follia, c'è solo un colonnino oggi sul Corriere della Sera, la web tax pensata da Mucchetti, non perché non si debbano tassare le multinazionali e anche le società internet, ma pensare di tassarle sui ricavi è una cosa allucinante e farà sì che le start-up italiane in questa materia verranno tassate sui ricavi. È una cosa allucinante, ne riparleremo quando avremo più tempo. Riguardo ancora alla politica, fatemi concludere, vabbè, ta vecchio molestatore, ne parleremo nelle prossime ore, ma l'idea e il pregiudizio nei confronti del Movimento 5 Stelle alcune volte rasenta il ridicolo. Oggi Stefano Folli dice viaggio di Di Maio negli Stati Uniti un evidente insuccesso. Allora, io mi chiedo, a me non stanno simpatici il Movimento 5 Stelle, tutto quello che volete, ma come si fa a dire, con quali criteri, con quali prove, per quale motivo si dà un giudizio così apodittico sul viaggio di Di Maio negli Stati Uniti? Ma io voglio dire, ma perché? Cioè, non si può accettare, se io fossi un politico, e non lo sono, grazie al cielo, non si può accettare così, questi tromboni del giornalismo italiano, Massimo Franco, Stefano Folli, grandissimi maestri, che prendono e dicono ah, il viaggio di Di Maio negli Stati Uniti è stato un evidente insuccesso. Ma chi l'è detto? Evidente perché? Bah, vabbè, io vi saluto, vi do appuntamento come sempre questa sera alle 19 su Radio 105 per Matrix 105 e vi saluto per questa zuppa di oggi. Condividetela, nell'ultimo periodo, tantissime visualizzazioni, come sempre, 20-25 mila visualizzazioni, ma vedo che il reach di questa rassegna stampa su Facebook, per qualche algoritmo, sta andando un po' meno bene, quindi diffondetela e fate un passetto in più rispetto ai giorni scorsi. Ciao!